Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Paola Caruso è tornata nel salottino di Silvia Tofanin per parlare delle condizioni di salute del suo primo figlio Michele. Dopo un'iniezione sbagliata, il bambino non si è più ristabilito. Momento davvero doloroso per Paola Caruso. Il suo primo genito Michele, di soli quattro anni, non potrà più camminare a causa di un'iniezione sbagliata. Tutto ha avuto inizio in Egitto. La showgirl era in vacanza quando il figlio è stato colpito da una febbre improvvisa e un'iniezione che avrebbe dovuto aiutarlo lo ha invece condannato a un triste calvario. A Verissimo, Paola ha aggiornato gli spettatori sulla situazione, parlando anche degli esiti di una recente, delicata operazione. Ieri abbiamo fatto la visita a sei mesi dall'intervento, ma Michele non è migliorato, quindi il dottore ha detto che purtroppo il danno che gli hanno fatto è permanente. Non c'è stato nessun miglioramento in quest'anno. L'operazione è andata bene, ma il nervo? Il medicinale è stato talmente tossico che il nervo non ha ripreso le sue normali funzioni. Io non ci credo, non dormo, è tutto il giorno che piango perché in un secondo è cambiato tutto, non sono ancora riuscita a metabolizzare. In questi mesi ho visto che non ci sono stati miglioramenti. Purtroppo, continua Paola, questo nervo lesionato è l'unico del corpo che non ricresce facilmente e se non ricresce la situazione è questa, non ci sono tecniche che risolvano il problema. Io mi fido di questo dottore e adesso l'unica cosa è continuare con il tutore e tanta fisioterapia. Paola, durante la crescita, dovrà sottoporsi a vari interventi perché non avendo il sostentamento dei muscoli, le ossa potrebbero crescere deformate. Paola ha poi concluso dicendo sogno di rivederlo correre, ma è un sogno infranto perché Michele non potrà più essere come prima. Siamo davvero addolorati per Paola e speriamo che la ricerca e le cure mediche possano farsi che questo sogno sia ancora possibile.